il padre nostro non può cambiarlo nemmeno il papa semmai può essere ritoccata la traduzione ma ci si chiede se questa modifica non faccia che aumentare il caos liturgico intanto a Ferrara anziché andare a messa si può fare anche qualcosina senza il sacerdote di Stefano Fontana molti amici e conoscenti mi dicono che non reciteranno la nuova formula del padre nostro ma continueranno a dire le parole tradizionali non ci indurre in tentazione i vescovi italiani hanno approvato la nuova versione durante la loro assemblea generale ma è certo che dei fedeli pochi o tanti che siano non si atterranno alle nuove disposizioni perché per molti motivi perché si stanno facendo troppi cambiamenti nella chiesa che disorientano e in qualche caso angosciano perché molti teologi e filologi dicono che il cambiamento non è giustificato ed anzi è controproducente perché i vescovi in questo momento non brillano per autorevolezza e così via fatto sta che molti non si atterranno al nuovo padre nostro a prescindere per il momento dal merito del contendere ossia dalla correttezza teologica e filologica del cambiamento e dalla sua opportunità liturgica mi pongo la domanda se i vescovi abbiano tenuto conto di un aspetto della questione ossia che un'altra divisione tra i fedeli durante la liturgia domenicale si aggiungerà alle tante già presenti caos liturgico partecipare alla santa messa ormai vuol dire riscontrare i più svariati atteggiamenti liturgici dei presenti non mi riferisco agli abusi agli eccessi nonostante siano ormai molto frequenti mi riferisco alle messe celebrate diciamo così in modo accettabile anche in questi casi si nota la grandissima varietà di partecipazione durante la consacrazione c'è chi rimane in piedi e chi si inginocchia tra coloro che si inginocchiano la maggior parte si rialza in piedi alle parole annunciamo la tua morte la tua resurrezione e un'altra parte più esigua ma non insignificante in alcune zone rimane inginocchiata fino alla grande preghiera sacerdotale per cristo con cristo e in cristo nel caso nella chiesa non ci siano gli inginocchiatoi situazione ormai molto frequente c'è chi si inginocchia per terra in evidente contrasto visivo con chi è rimasto in piedi al momento della preghiera signore non son degno alcuni si inginocchiano nuovamente mentre la maggioranza rimane in piedi nell'accedere alla comunione c'è chi prende l'ostia consacrata in mano chi la prende in bocca ma rimanendo in piedi e chi la prende in bocca ma inginocchiandosi qualche donna la prende indossando il velo la maggioranza dei fedeli prende la comunione da tutti coloro che la distribuiscono compresi i ministri straordinari ma alcuni pensano ancora che l'ostia consacrata possa essere presa in mano e distribuita solo dal sacerdote che ha mani consacrate quindi vanno a prenderla solo da lui in qualche caso ho anche notato che qualche fedele si sposta di fila quando si accorge che ha distribuire non è il sacerdote ma un laico o una laica fa come ti senti durante la recita del padre nostro molti hanno preso l'abitudine di aprire le braccia come fa il sacerdote sull'altare in atteggiamento orante mentre molti altri non lo fanno ci sono dei canti liturgici che hanno delle parole talmente strampalate che qualcuno si rifiuta di cantarle facendo selezione dei canti spesso alle preghiere dei fedeli si invita a pregare per cause molto impropri e qualcuno non si associa la preghiera d'altro canto è ormai diffusissima la scelta della chiesa ove trovare una celebrazione accettabile sì che i fedeli si dividono sia nella stessa messa tra chi si comporta in un modo e in un altro sia tra chiesa e chiesa a questa situazione di divisione o di differenziazione in ogni caso di mancanza di unità nella liturgia ora si aggiungeranno le due ultime novità ci sarà chi non reciterà la nuova formula del gloria e del padre nostro tra costoro ci sarò anch'io anche io continuerò a chiedere a dio di non indurmi in tentazione però nessuno è soddisfatto di questa situazione la liturgia attorno al sacrificio dell'altare in qualche modo ci associa la eterna liturgia di lode che le anime beate rivolgono a dio insieme agli angeli alla vergine maria e ai santi ora non credo che la lode celeste a dio non sia univoca e all'unisono perché in quella dimensione dio è tutto in tutti e le anime beate lo vedono così come egli è l'unità nel rito assumere gli stessi atteggiamenti pronunciare le stesse parole rispettare gli stessi tempi compresi i silenzi volgere lo sguardo verso gli stessi luoghi essere orientati tutti verso lo stesso punto esprimono un'unità della chiesa intera pellegrinante e trionfante a dio che sull'altare rinnova la creazione nota di basta bugie luisella scrosati nell'articolo seguente dal titolo a messa senza il prete ferrara provincia d'amazzonia racconta che la diocesi di ferrara annunciato che visto il numero decrescente dei sacerdoti alla messa domenicale si potranno sostituire altri tipi di celebrazioni così al criterio da sempre usato dalla chiesa dell'impossibilità di partecipare alla messa si sta sostituendo quello della comodità comunicando ai fedeli che la celebrazione dell'eucaristia è fondamentale ma non tanto da richiedere un viaggio di una decina di minuti ecco l'articolo completo pubblicato sulla nuova bussola quotidiana il 18 novembre 2018 da anni stiamo assistendo alla continua diminuzione di vocazioni e conseguentemente di presbiteri che possano presiedere l'eucaristia si è cercato di fare fronte a questa oggettiva difficoltà cercando di rivedere il numero di messe celebrate in ogni chiesa per assicurare a tutte le comunità almeno una messa festiva vediamo che purtroppo questa strada non è più sufficiente siamo chiamati quindi ad operare nuove scelte che permettano ai fedeli di radunarsi alla domenica per lodare il signore ascoltare la sua parola di salvezza e dare la possibilità di accostarsi alla comunione punto visto l'approssimarsi del sinodo sulla mazzonia pensavamo si trattasse di una presa di posizione del vescovo della diocesi brasiliana di manaus poveracci una media di più di 500 chilometri quadrati e quasi 10.000 battezzati per sacerdote o magari della diocesi della trasfigurazione a novosibirsk zona siberia oltre 52.000 chilometri quadrati e 13.000 anime per sacerdote e invece no stiamo parlando del esotica diocesi di ferrare della decisione del suo vescovo precisiamo subito che pare la decisione di mons pergo sia stata presa in concerto con gli altri confratelli vescovi della conferenza episcopale dell'emilia romagna attenuante o aggravante decidete voi fatto sta che la lettera dello scorso 28 giugno firmata dal direttore dell'ufficio liturgico diocesano di ferrara nonché segretario personale del vescovo don giacomo granzotto inviata ai sacerdoti della diocesi e accompagnata da due schemi celebrativi della parola di dio lancia l'allarme di una inarrestabile moria di preti che costringerebbe a strategie liturgiche alternative celebrazioni previste dal ken 1248 2 e che si precisa non intendono sostituire o intaccare la centralità dell'eucaristia il primo giorno in cui cristo signore è risorto ma la realtà è davvero questa non basta non voler intaccare la centralità dell'eucaristia a parole bisogna anche capire se le scelte che si fanno traducono effettivamente questo principio torniamo in siberia se la celebrazione eucaristica a me più vicina fosse a 200 chilometri di distanza o magari il sacerdote fosse in grado di raggiungere un luogo più vicino una volta ogni morte di papa in effetti procurare che ci siano celebrazioni della parola in un raggio più abbordabile è certamente comprensibile ci troviamo di fronte ad una impossibilità pratica e non vi è il rischio di comunicare ai fedeli uno svilimento del valore dell'eucaristia se mi trovassi in amazzonia e dovessi percorrere 40 chilometri a piedi per raggiungere un centro messa è chiaro che risulterebbe opportuno prevedere altre celebrazioni non eucaristiche ma ferrara 169 parrocchie per 167 sacerdoti dati suscettibili di correzione ma praticamente una parrocchia a testa ipotizziamo una situazione catastrofica e cioè che di questi 169 preti solo 100 godano di discreta salute siano perciò in grado di celebrare la s messa visto che di domenica si può abbinare e che il sabato sera c'è la messa prefestiva questi 100 sacerdoti potrebbero assicurare 300 ss messe per 169 parrocchie non male apriamo scenari apocalittici supponiamo che l'unica messa domenicale della diocesi sia celebrata a ferrara città sapete quanto impiegherebbe in auto un residente agoro estremo est della diocesi per raggiungerla un'ora e dall'estremo nord da berra per esempio 40 minuti dunque praticamente noi stiamo comunicando ai fedeli che la celebrazione dell'eucaristia è fondamentale essenziale bla 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 al punto tale che non vi deve dare l'incomodo di fare un viaggio di una decina di minuti sì perché stante la situazione reale se nella mia parrocchia non c'è la s messa probabilmente in circa 10 minuti riuscirò a raggiungere un posto dove la messa viene celebrata a ferrara non c'è nemmeno l'alibi delle zone appenniniche l'articolo del codice di diritto canonico riportato nella lettera spiega che se per la mancanza del ministro sacro per altra grave causa diventa impossibile la partecipazione alla celebrazione eucaristica si raccomanda vivamente che fedeli prendano parte alla liturgia della parola se ve ne è qualcuna nella chiesa parrocchiale o in un altro luogo sacro punto secondo voi si può ritenere impossibile lo spostamento di qualche chilometro posto che mediamente i trasporti non avvengono più a piedi o a dorso d'asino per raggiungere una chiesa dove si celebra l'eucaristia nell'esortazione apostolica post sinodale sacramentum caritatis 75 benedetto xvi ricordava che il sinodo ha raccomandato innanzitutto ai fedeli di recarsi in una delle chiese della diocesi in cui è garantita la presenza del sacerdote anche quando ciò richiede un certo sacrificio laddove invece le grandi distanze rendono praticamente impossibile la partecipazione all'eucaristia domenicale è importante che le comunità cristiane si radunino ugualmente per lodare il signore fare memoria del giorno a lui dedicato il criterio è sempre quello dell'impossibilità reale non del disagio o della scomodità nella lettera non si ricorda che la mancata partecipazione alla celebrazione dell'eucaristia nelle domeniche negli altri giorni di precetto quando se ne ha la possibilità è obbligatoria che perciò in questi casi le celebrazioni della parola di dio non permettono di adempiere il precetto festivo è in effetti singolare che nella lettera si richiami la presentazione del direttorio celebrazioni domenicali in assenza di presbitero del 1988 secondo la quale occorre assicurare nel migliore dei modi e in ogni situazione la celebrazione cristiana della domenica senza dimenticare che la messa rimane la celebrazione propria pur riconoscendo la presenza di elementi importanti anche quando la messa non si può celebrare ma non si riporti invece il n 18 dello stesso documento quando in alcuni luoghi non è possibile celebrare la messa di domenica si consideri anzitutto se i fedeli non possano recarsi alla chiesa di un luogo più vicino per partecipare alla celebrazione del mistero eucaristico la soluzione è da raccomandare anche ai nostri giorni anzi per quanto possibile da conservarsi ciò tuttavia richiede che i fedeli siano rettamente istruiti sul senso pieno dell'assemblea domenicale si adeguino di buon animo alle nuove situazioni punto istruiti i fedeli e magari istruiti anche i sacerdoti e i vescovi è tutt'altro che raro vedere con celebrazioni eucaristiche domenicali che manifestano meravigliosamente la comunione del presbiterio eccetera eccetera salvo poi trovare parrocchie senza preti o magari preti senza parrocchia per il mancato adattamento al new style liturgico